Sì ragazzi, sì, godo, 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 vinciamo 3 a 1 contro l'Atalanta, una partita molto sofferta ragazzi, la partita è finita da poco, sto davvero tutto sudato come se l'avessi giocata io questa partita, ma va bene così, vinciamo 3 a 1, prova anche di carattere, perché di solito queste partite sofferte non giocate proprio benissimo, noi non le vincevamo, ma invece l'abbiamo vinta ed è stata anche un'ottima dimostrazione di crescita e di carattere. Dopo 15 minuti nel primo tempo siamo andati in svantaggio su un calcio d'angolo con un gol di Cristante, il primo tempo sembrava davvero molto dura la partita, abbiamo commesso diverse imprecisioni e l'Atalanta sembrava che stava riuscendo al meglio a fermare il nostro gioco, però poi nel secondo tempo Zielischi al 56esimo con una rasoiata ha messo dentro il gol dell'1 a 1, davvero un gol fantastico di Zielischi, un tiro al volo potentissimo. Poi subito dopo con una grandissima azione, dopo 5 minuti ci siamo portati in vantaggio sul 2 a 1 con Mertens, lì c'è stato anche un grandissimo assist d'insigne e poi da lì siamo riusciti a giocare meglio ed abbiamo anche alzato il ritmo del nostro gioco sulle ali dell'entusiasmo. E poi all'ottantasettesimo, altra grandissima occasione, è arrivato il 3 a 1 di Roggo, primo gol per lui in maglia azzurra. Poi ragazzi, grandissima prestazione di Maggio, noi eravamo preoccupati perché Maggio doveva marcare il Papu Gomez in questa partita, ma il Papu Gomez non ha toccato davvero un pallone e Maggio ha fatto una partita davvero strepitosa e quindi perciò il Napoli ha fatto la scelta di non prendere un terzino destro perché Sarri ha visto molto bene Maggio e anche io l'avevo visto molto bene il ritiro. Ragazzi, con questa Atalanta davvero sono sempre partite sofferte, nel primo tempo sembrava di rivedere i fantasmi delle due sconfitte dell'anno scorso ma alla fine per fortuna è andato tutto bene e come ho detto prima, anche per questo abbiamo dimostrato una netta crescita perché forse negli anni scorsi una partita che si metteva in questo modo non l'avremmo mai vinta. Ragazzi, poi quanto è entrato Alan, ma in che forma è Alan ragazzi? Davvero un vero e proprio lottatore, recupera palloni, fa giocate pazzesche è stato lui il protagonista assoluto anche del terzo gol Zielischi aveva fatto un po' di errori oltre poi al gol che è stato davvero fantastico Ragazzi, poi a fine partita bisogna un po' capire Reina perché è andato sotto la curva a salutare sono andati anche gli altri giocatori però Reina salutava continuamente i settori dello stadio e poi alla fine uscendo dal campo gli è scappata anche qualche lacrima quindi bisogna capire cosa succederà con Reina però a me sinceramente non sembra proprio il caso di cambiare portiere una volta che hai cominciato la stagione, che hai giocato il playoff di Champions che hai giocato le prime due partite di campionato e poi Reina è uno dei pilastri dello spogliatoio e poi comunque sarebbe un rischio ora prendere un portiere nuovo da un campionato straniero che non conosce il campionato italiano e poi bisogna trovare anche un portiere che vada bene a Sarri cioè che abbia un piede buono come lo ha Reina quindi come abbiamo detto più volte ragazzi Reina almeno per quest'anno deve restare qui però questa situazione poteva essere gestita meglio anche dalla società secondo me perché non bisognava arrivare a questo punto quando mancano 5 giorni alla fine del mercato questa era una situazione che andava risolta almeno ad inizio luglio però poi prima sentivo che ci sono sensazioni positive per quanto riguarda Reina e che dovrebbe rimanere un altro anno a Napoli però forse la società doveva rinnovargli il contratto perché giustamente ora Reina vede che il PSG, il club più importante del mondo gli fa un'offerta e dice io giustamente non sapendo se l'anno prossimo mi verrà rinnovato o no il contratto io ho questa grande occasione di andare al PSG e non me la faccio scappare perché io comunque penso che Reina voglia rimanere qui però si sarebbe sentito più sicuro con un rinnovo del contratto però come abbiamo detto speriamo che rimanga ragazzi davvero importantissima questa vittoria ora ci prendiamo un periodo di pausa dopo queste partite davvero importantissime e dove i nostri calciatori hanno sprecato molte energie sia fisiche che mentali e ora quindi si va a questa sosta belli tranquilli con 6 punti in campionato dopo 2 giornate qualificati ai gironi di Champions se ora si riprenderà a Bologna bisognerà vedere se il 9 o il 10 settembre devono ancora uscire gli anticipi e posticipi detto questo ragazzi vi saluto sempre Forza Napoli